giubba di uniforme della guardia nazionale inventario 692 collocazione storica 1860 descrizione del reperto e materiali impiegati il tessuto è lana la giubba è ben rifinita giubba composta da un doppio petto con due file di bottoni e una fodera all'interno impiego e specificità dell'oggetto a partire dall'alto si possono apprezzare le spalline dotate di bottoni decorati e frange che determinavano il grado dell'ufficiale che indossava l'uniforme vi è poi la doppia fila di bottoni metallici decorati che scende ad abbottonare il doppio petto della giubba questo particolare non era solo un dettaglio decorativo ma assieme alla fodera di cui l'uniforme era dotata servivano a proteggere dal freddo il soldato che l'indossava alla fine della manica c'è il polsino e il paramano confezionato con stoffa diversa rossa come quella delle spalline e delle impunture rispetto a quella blu scuro del resto della giacca tutto il panno utilizzato è comunque di buona qualità e vi attenzione e cura per i dettagli da tenere in considerazione il fatto che la giubba veniva indossata da ufficiali della guardia nazionale non so che l'uniforme non so che l'uniforme Grazie.